eccoci qua buongiorno a tutti il signore che leggeva il giornale una bella terrazza al vento con aviazione navale davanti lo conoscete il professor parsi che non riuscendo a decidere che occhiali si mette stamattina me lo metto quadrato me lo metto rotondo davvero centrista ha un occhiale di coalizione ciao vittorio esatto ciao ciao michele e buongiorno a tutti a tutti è un piacere essere con voi insomma l'occhiale di coalizione al portatore l'occhiale di coalizione chiedo c'è questo ultimo articolo del 27 aprile quindi cinque giorni fa sul foglio che dice c'è un bonus europeo c'è c'è un problema e c'è un rischio perché se la us si illude poi rischia una pesante delusione volete illustrarlo vediamo un attimo lo usiamo come apertura del tema di oggi ma ecco diciamo così che a me sembra che il problema dell'unione europea in questo momento sia prendere consapevolezza della della partita che si sta giocando che è una partita come abbiamo detto altre volte sui principi e sulle regole di funzionamento dell'ordine internazionale ed è una partita che richiede all'unione europea di fare un salto di qualità non parlo di un salto di qualità necessariamente istituzionale si possono trovare forme probabilmente diverse per produrre il risultato il più possibile simile a quello che si otterrebbe attraverso una riforma istituzionale ma il punto principale a mio avviso è che se noi non non ci attrezziamo ad avere non solo maggiori capacità militari ma la possibilità di utilizzare queste capacità militari in forma di deterrenza e di dissuasione e laddove fosse necessario invece in forma attiva rischiamo di restare tagliati fuori il punto dell'articolo mi veniva dal fatto che l'unione sembra in difficoltà nel riuscire a provvedere tempestivamente agli ucraini il sostegno militare che gli ucraini chiedono ed è soprattutto in termini di munizionamento ora è abbastanza paradossale appunto che un insieme di paesi che valgono comunque ancora tra un quinto e un quarto del prodotto interno lordo del mondo siano in difficoltà nel provvedere a questi munizionamenti in 14 mesi di guerra senza considerare la necessità di dotarci di scorte noi stessi perché il mondo intorno a noi è piuttosto il subbuglio stavo vedendo quello che era anche l'acquirsi della tensione in medio oriente in cui a me siamo abbastanza evidenti che gli attori medio orientali si giochino ognuno la sua partita senza tenere minimamente conto dei rischi sistemici che stanno incrementando ed è chiaro che se il medio oriente dovesse produrre una crisi per noi sarebbe estremamente pericoloso avere due crisi sulle porte di casa e poi c'è l'Africa la questione del Sudan la stiamo sottovalutando soprattutto perché è un paese in cui potrebbe davvero passarsi da diciamo così una lotta tra fazioni militari a una vera e propria guerra civile paese così popoloso così determinante anche per i corridoi diciamo di transito tra l'Africa equatoriale sul Sariana e l'Africa Sariana si bene che rischia di darci uno scenario su tre a su tre diciamo sui tre confini europei estremamente pericoloso e nell'articolo non ne parlo perché non si può parlare di tutto ma noi sappiamo anche che c'è una fortissima militarizzazione dell'artico da parte russa ormai in corso da una decina d'anni gran parte del confine artico un confine che insiste sui confini del nord Europa per cui rischiamo veramente di essere in una situazione in cui non capiamo che se non ci evolviamo non saremo più in battistrada di una tendenza come pensavamo di essere negli anni d'oro della globalizzazione alla una tendenza alla relativizzazione della solennità politico militare ma rischiamo di essere un fossile politico cioè l'ultima vestige di una tendenza che ormai non c'è più perché il mondo ha fatto uno you turn quindi questi erano un pochino i moniti e in realtà riplicava anche un po' a un articolo di Ferrara che trovavo sul mio stesso giornale eccessivamente indulgente nei confronti dei francesi ma Giuliano in questo sono sono diversi articoli che rompe le scatole sostenendo che macomba capito che non bisogna assumere posizioni moraliste ora a me non sembra che sia questione di moralismo ma c'è una questione di sopravvalutazione della dell'accume macroniano che francamente lascia un po' lascia un po' perplessi allora su macron magari mi speriamo su Ferrara evito perché poi si offende e scrive cose cattive pensando che lo voglia picchiare che non è vero tranquillo più ti picchi intellettualmente lo meriteresti ecco parto invece da siccome io faccio la parte della critica su macron credo che siamo d'accordo da quello che hai scritto da quello che hai detto da altre conversazioni e cioè il bellitarismo tipico tradizionale francese che è uno dei problemi di fondo che insistono sulla mancanza sul ritardo europeo perché c'è da un lato la coscienza implicita di tutti tanto ci sono gli americani che dura ormai da 70 anni e che devo dire gli americani ecco in questo senso permettetemi o permettimi Trump era utile perché Trump oltre che abbaiare mordeva i presidenti americani le amministrazioni americani da vent'anni da venticinque da quando insomma è crollato il muro eccetera sono della seconda metà gli anni 90 dico agli europei beh sentite adesso il grande rischio molto minore voi vi siete anche arricchiti noi insomma perché non provate a a spendere due lire in più no perché voi spendete lo zero lo zero sputo del pil per la vostra difesa che trattava tutti i stipendi marescialli che stanno in ufficio noi saremo anche guerrafondai e violenti che anche vero ha però ci buttiamo a volte sei viaggiamo sul quattro insomma ragazzi fate e Trump almeno aveva cominciato a tagliare un pochino qua un pochino là e dovrebbero pensarci ecco però c'è un punto sull'argomento tu e cioè tu descrivi lo scenario mondiale e su un accordo ci metti il sud ora onestamente e realisticamente se dobbiamo intellettualmente almeno nel dibattito insistere chissà se crosetto ascolta chi è il presidente il ministro degli esteri italiano adesso non so nemmeno questo degli esteri e l'ex presidente del parlamento con il forza italia parlamento europeo se crosetto e tayani e meloni dovessero ascoltare e insistere credo che sia molto troppo chiedegli di avere letteralmente un'opinione sul sudan sull'india una serie di teatri mi basterebbe o comincerei se avessero opinioni sui due o tre grandi problemi vicini a all'europa ucraina ovviamente dove hanno apparentemente un'opinione però in realtà è da ruota di scorta quasi e le cose che hai detto sulle forniture militari sono verissime non so se sia vero l'avrei visto anche tu questa storia che i 20 no i 20 nei 40 che gli abbiamo mandato non funziona neanche uno allora questo chiaramente va al di là dell'incuria magari non ne funzionano 10 per caso se non ne funzionano 20 vuol dire che c'è un boicottaggio attivo quindi abbiamo un problema la spiegazione che viene fornita ufficialmente che c'era un accordo con gli stati uniti per cui il costo della rimessa diciamo così in in azione l'arrebbero sostituto gli americani se anche fosse questo capisci bene che sono cose che non si fanno non puoi mandare materiale che poi deve essere risistemato cioè già siamo lenti di mandare è un obiettivo poi il bottaggio attivo perché nessuno è così stupido da non capire che stanno mandando dei cannoni degli obici appunto che non sono funzionanti tutti e quindi ci sono tre scenari quello ucraino quello del medio oriente vorrei qui io sono confuso proprio letteralmente confuso perché non ho fonti di informazione che mi facciano capire cosa significi cosa significhi l'entrata cinese su quel terreno al riavvicinamento Iran-Arabia Saudita e in realtà nonostante qui alcuni celebri che il presidente dell'Iraq è un kurdo visto insomma alla fine l'Iraq continua a stare l'abbiamo proprio verificato tu e io siamo un attimo posizione assolutamente anti occidentale cioè è di fatto un alleato dell'Iran anche se si fa finta che non lo sia quindi c'è una problema e c'è la situazione israeliana e infine la Cina che forse è strategicamente la cosa più seria perché perché in tutto questo quadro il vero giocatore che ha cervello che ha una strategia che ha economia e che ha aspirazioni e per il momento non ha fatto sbagli va detto non importa che noi dal vostro punto di vista riteniamo faccia tanti sbagli opprimendo le minoranze dal punto di vista suo non ha fatto sbagli e la Cina ecco a me pare che forse sarebbe su questi tre terreni chiedere alla all'Europa di cominciare a definire quali sono i suoi interessi e in che senso sono diversi da quelli statunitensi da questo punto di vista Macron è utile no è utile perché dice no noi abbiamo una posizione diversa però non si capisce quale sia qual è la posizione di Macron prego invadete Taiwan no quello non credo non credo perché poi la Cina in qualche modo intanto la Cina scusami la Francia è comunque un membro permanente del Consiglio di sicurezza su questi francesi sono piuttosto attenti perché è un prestigio evidentemente che è sovrastimato rispetto alla realtà alla reale capacità politico militare della Francia che comunque resta una potenza militare anche nucleare e quindi i francesi sono molto attenti su questo io tendo a pensare che non reagirebbero bene a una violazione della sovranità di Taiwan a quella che è sovranità informale e non riconosciuta io credo più che altro che i francesi tendano a abbiano teso a vedere appunto e su questo può darsi che Ferrari abbia ragione cioè no c'è che abbiano cercato di smuovere un po' la Cina per vedere se la Cina intendeva effettivamente giocare una posizione lei non completamente di fatto allineata con la Russia perché i cinesi fino adesso eh il massimo che avevano prodotto fino a pochissime ore fa era stato quel documento molto vocale eh in cui però i punti contenuti erano contraddittori quindi il rispetto della sovranità ucraina da una parte però di fatto un'accusa a un eccesso di di attivismo occidentale la preoccupazione per le esigenze di sicurezza di tutti quindi compresa la Russia mai le vocazioni mai la citazione della parola guerra aggressione o quant'altro ora sembra che la Cina si sia mossa anche qui formalmente su una posizione leggermente diversa diciamo che i segnali mandati a Mosca sembrano essere segnali appunto di una una linea cinese che vuole essere a me sembra eh noi possiamo anche condividere l'obiettivo di ridurre eh la leadership americana e occidentale sul sistema internazionale possiamo anche condividere l'idea che spingiamo per un multipolarismo che dal punto di vista europeo rischia di essere molto pericoloso chiaramente perché proprio perché siamo sotto 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 sottostazzati per vivere davvero in un mondo multipolare eh e però il costo di questa guerra sul sistema internazionale inizia a essere troppo pesante per noi la Cina comunque sembra avere una crescita economica che non è quella che si dice servirebbe per garantire diciamo un futuro un futuro tranquillo al paese al regime quindi questo unito alla telefonata famosa di ehm a Zelensky potrebbero essere due segnali mandati in tempi molto ravvicinati a Mosca sul fatto che deve un po' finirla di continuare a fare questo Mosca in questo momento però sta reagendo in maniera sta facendo orecchio da mercante eh anche la l'aumento della cruenza dei bombardamenti su obiettivi civili con lo scopo di minacciare di fare intravedere la tremenda rappresaglia eh che ci sarebbe qualora davvero gli ucraini riuscissero a scatenare la loro controffensiva di maggio cosa che appare molto probabile è molto difficile da evitare in questo momento perché sarebbe un suicidio per gli ucraini eh consentire ai russi ulteriori vantaggi ci dice appunto che gli attori stanno tutti giocando un po' a chi tiene il cerino in mano e questa mi sembra un po' una tendenza comune tu prima parlavi del Medio Oriente a me Medio Oriente quello che sembra di vedere è che tanto gli israeliani nel loro aumento della repressione nei confronti dei palestinesi che è ormai sempre più più forte cioè sempre più arbitraria i coloni stanno facendo quello che vogliono nei territori occupati l'esercito non fa niente per fermarli quindi poi dopo è ovvio che si rischia di innescare un un gioco al massacro in cui tutti si prendono più rischi gli israeliani confidano molto sul fatto che loro hanno una capacità di repressione eh molto più elevate del passato su questo assomigliano un po' ai cinesi per come si stanno comportando devo dire con molta sincerità eh gli altri i palestinesi io su questo non faccio che sottoscrivere dicendolo da almeno venticicque anni da quando forse trenta da quando mi sono reso conto proprio da conoscendo indirettamente una valanga di colleghi israeliani inizio agli anni novanta che francamente l'atteggiamento è quello lo so che tutto questo viene purtroppo lasciate interrompa però su questo è una cosa un po' fastidiosa insopportabile che tutto questo divenne immediatamente eh trasformato in antisemitismo una cosa veramente sgradevole ehm e obiettivamente così c'è una fetta sostanziale della popolazione israeliana che sarà realpolitik sarà quello che vuoi ma dice bisogna buttarli a mare punto fine eh e lo pensa e lo e lo persegue strategicamente cioè io me lo sono sentito dire da 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 con totale tranquillità a cena da eh signori che poi negli Stati Uniti votavano democratico e che sono del tutto civili e che fanno optimal decision theory decision theory quindi gente molto razionale ehm there is only one solution we have to kick them out to the sea anche io sono spesso fatto oggetto di blacklistaggio altre cose dai gruppi di fanatici dall'altra parte ma la comunità ebraica italiana dovrebbe veramente farci delle domandine ma comunque secondo me un pochino sì perché il punto è un po' quello sai cioè quello che vedo io è che ognuno confida di essere in una posizione in cui può prendersi dei rischi maggiori quindi quelli sono convinti di essere in grado di tenere a bada qualunque forma di opposizione sia interna che esterna eh i sauditi e gli iraniani la ragione del loro riavvicinamento riguarda le loro politiche però ti dice anche che quindi i famosi patti di Abramo non hanno minimamente funzionato nella direzione che Trump e il suo suo genero auspicavano di tenere sotto conti avere maggior marco americano nella regione anzi ognuno ha presi ognuno ha giocato quegli accordi come diavolo voleva eh e però per quello che so io c'è un nuovo flusso di di denaro da finanziatori privati del golfo nei confronti delle formazioni di diciamo di guerriglia palestinese che sono molto più ehm come si può dire eh che sono molto più pluralizzate rispetto al passato c'è il fallimento totale dell'NP che viene giudicato dai palestinesi un fantoccio c'è un chisling proprio e questo è gravissimo perché capisci che quello poteva essere una via da parte quando tu poi riduci il territorio e l'amministrazione del territorio in quelle condizioni cioè francamente aspettati che poi se i semi di vento non raccogli di tempesta è velletario però vedo veramente tanti che si prendono rischi e il caso mi preoccupa e i cinesi non si stanno prendendo rischi eh stanno facendo una politica come dici tu eh che qui diciamo fuori dalla questione di Taiwan eh è una politica che fino adesso gli ha detto bene eh però è anche vero che non è una politica che è stata efficace nei confronti di Putin in nessun modo per cui adesso se quello che non riesco a capire di Pechino è se Pechino sta giocando una partita di maquillage per cui vuol far vedere che è più neutrale nella speranza di potersi proporre come eh pseudo mediatore oppure come honest broker nella stessa linea in cui gli americani fanno gli honest broker del Medio Oriente per cui cioè honest è il modo di dire eh oppure se invece sta cercando effettivamente una una linea diversa però mi chiedo se dopo aver sostenuto Mosca per quattordici mesi eh sia difficile che che Mosca recepisca il segnale con con la sufficiente rapidità perché anche i russi si faranno i calcoli se noi andiamo avanti i cinesi che fanno ci mollano eh e conoscendo vedendo il modo in cui fino ad adesso hanno decisi i russi stanno assumendosi una serie di rischi crescenti e la mia paura sia che loro scommettono che tanto i cinesi abbozzeranno alla fine questo è un po' la mia opinione su questa questione secondo me la tattica cinese in questo momento è solo un atteggiamento americano di reverse del pivoting a può cambiarla è la seguente molto bene noi siamo i vostri nemici strategici eh ed è deciso molto bene voi americani europei di 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 dietro avete deciso che dovete tenersi indietro come un giocatore di secondo piano sui scacchiere internazionale forever tecnologicamente economicamente quindi militarmente bene noi tutta questa cosa non l'accettiamo quindi giochiamo il gioco nostro uno politica delle alleanze ci costruiremo alleanze mondiali lula gli è stato servito su un piatto d'oro grandissima mossa perché perché più di fatto è più facile mettersi di accordo con lula che con gli indiani in in africa ci siamo e continueremo a operare e devo dire che operano con grande intelligenza da ormai vent'anni venticinque a veramente con grande intelligenza io davvero tutte le chiacchiere di aiutiamoli in casa loro degli italiani è impressionante perché poi alla fine il grosso del potere ma lasciamo stare quello lì l'ho imparato un po' perché appunto un paio di senior amici miei cinesi lavorano proprio su quello uno è fondamentalmente irresponsabile della grande e quello della grande crescita etiope quindi la maniera in cui operano è assolutamente intelligente dal punto di vista loro e anche benefico va detto overall per per gli africani bene quindi l'africa ce l'abbiamo dopodiché voi avete un problema avete un problema in questo momento ed è il fatto che la russia non ha nessuna intenzione di mollare sono matti imperialisti sono completamente fermi a io nel terribile dal loro punto di vista che piuttosto muore sansone con tutti i filistei la guerra atomica non la faranno perché sanno che sarebbe davvero la fine di tutto ma faranno tutto il possibile per non mollare a me cosa conviene fare conviene lasciare che questa spina nel fianco continui a logorarvi perché perché vi indebolisce insieme alle alleanze perché mentre voi a questo punto siete committed col nemico storico e non mollerete presidente questo presidente quello non fa nessuna differenza tutta aria fritta quella che dicono bisogna aiutare meno l'ucraina la chiamoglia alla deriva ok la maggioranza del popolo americano non accetterà mai una sconfitta in un confronto con la russia in diretto e lo è diventato a perché la russia non cede e la russia dice il confronto è con gli usa ok quindi noi lasciamo però ovviamente siccome un problema di politica delle alleanze e l'alleanza in questo momento giocano sulle sanzioni e le sanzioni sono pesanti per paesi diciamo così poveri o non ricchi no caso le sanzioni come abbiamo visto fanno un baffo nonostante le chiacchiere leghiste fanno un baffo alla germania all'italia alla francia poca roba era pochissima era talmente poco quello che esportavamo in russia e non capisco perché continuiamo esportare la pasta quelle cose c'è 9 miliardi all'anno ci pulisci veramente le scarpe e le sanzioni sono invece più difficili da mantenere per per i paesi chiamiamolo terzo mondo sono più poveri e quindi su quelli noi giochiamo nel contempo noi facciamo i pacifisti oggi appunto hanno votato ieri hanno votato all'onu la risoluzione che condanna l'aggressione l'aggressione russa e guarda caso lo fanno in tandem ce lo fanno col kazakhstan che non ama i russi ma li sopporta col brasile e così via e quindi da quel punto di vista la russi la cina quella posizione ha c'è un'unica maniera di scalzare quella posizione ed è correre un rischio io non sono del tutto convinto che occorra che sia bene correre il rischio però è il rischio sul tavolo ovvero e qui veramente macron a mio avviso sto facendo il cinico come vorrebbe giuliano ferrare cioè il realista se quello il gioco tu devi andare a vederlo il gioco facendo tu il cinico e giocandoti però chiedendoti non tanto moralisticamente ma strategicamente se permette di di prendere taiwan e non insistere che accettino una soluzione che non prende taiwan perché ci sono delle altre soluzioni fra l'indipendenza di taiwan e la incorporazione che permettono a taiwan di mantenere un sistema democratico per esempio una forma di federalismo costituzionale cinese che dia all'isola di taiwan provincia della people republic of china una democrazia interna e una libertà economica straordinaria all'interno di un quadro federalista qualcuno potrebbe tranquillamente metterla sul sul tavolo la cina vuole essere un impero gli imperi avevano delle regioni con grandissima autonomia che facevano no alla fine cesare chiese e cesare pilato chiese agli ebrei stessi chi volevano condannare se 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 gesù o barabba no no chi volevano libero e stopper è vero sì questo capisco il problema è che c'è sono due tipi di problemi secondo me uno è il precedente di hong kong che rende molto nervosi i taiwanesi perché addirittura quello era un accordo internazionale sancito con la gran bretagna che in termini di diritto internazionale avrebbe potuto bloccare era la condizione qua non del passaggio di ma loro hanno rispettato è formalmente e mica tanto perché la repressione che loro stanno attuando in questi ultimi tre anni è una repressione molto pesante che è dentro alle leggi di hong kong il problema io sono solamente un rischio no no sono d'accordo è un rischio infatti l'altro hong kong viene dal fatto che la presenza di mainlander è sostanziale la popolazione la composizione della popolazione di hong kong dal 97 è cambiata sono arrivati mainlander certo ma l'altro l'altro elemento è se per una struttura di fatto leninista come il partito comunista cinese ancora e quindi centralista c'è spazio per un per un'articolazione imperiale di quella che tu dici perché è vero no cioè è molto vero che per esempio l'impero britannico conosceva tutta una forma di controlli diretti e indiretti estremamente articolata però già per esempio l'impero coloniale francese molto meno per la mentalità centralista francese su altri imperi l'impero zarista aveva nei confronti dell'usbekistan che allora si chiamava in maniera diversa degli emirati di bucara e samarcanda con condizioni un po simili cioè nel senso all'interno della struttura imperiale zarista esistevano dei signori locali come gli emiri in quelle zone e altri principati nel caucaso che avevano una 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 mantenevano diciamo così una forma di di autoregolazione non so dirti quanto quanto concreta perché non ho mai studiato quelle cose però mi chiedo se appunto questo sia compatibile su come i cinesi sono mossi che anche in tibet si sono mossi spianando qualunque tipo di differenza nello xiang non mi pare che siano stati rispettosi più di tanto e parliamo di di piccole popolazioni perché poi tutto stiamo parlando di numeri di 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 popolazioni veramente insignificanti rispetto al miliardo e trecento quattrocento quanti diavoli sono i cinesi adesso milioni di cinesi per cui questa è un po è un po la domanda anche se anch'io credo che la soluzione sia quella appunto di trovare una forma aggiornata a quello che sta succedendo nel mondo di un paese due sistemi che significa però ricostruire la fiducia reciproca anche gli arresti che hanno fatto cinesi ultimamente di cittadini taiwanesi in viaggio nel continente che poi sono stati condannati a penne detentive non dispongono bene diciamo così quindi non lo so cioè il problema è se dovesse verificarsi un uso della forza per chiudere la questione di taiwan quanto sarebbe possibile per i paesi per gli stati uniti ma non solo per gli stati uniti credo assistere senza fare niente a me sembra difficile tanto più se contemporaneamente fosse ancora aperta la questione ucraina perché vorrebbe dire che in due emisferi si lascia che chi vuole violare le norme lo faccia seppure ci sono differenze chiaramente tra un caso e l'altro no no allora tanto però io sono assolutamente d'accordo infatti io non sto dicendo che quella che ho buttato lì sia la soluzione sto dicendo che il problema di fondo e secondo me interagisce c'è anche l'aspetto israele per sé ma l'atteggiamento cinese ovviamente influenza moltissimo il comportamento di iran arabia saudita degli altri paesi le cose che dicevi no su il crearsi di una moltiplicità di gruppi di guerriglia la sparizione di fatto dell'autorità nazionale palestinese questa è da una scelta israeliana non è che i palestinesi siano i personaggi più geniali del mondo su questo però è anche vero che se tu gli distruggi la west bank e diventa un territorio ingovernabile in cui coloni razzisti fanno quel cazzo che vogliono in una situazione del genere è ovvio che persone specialmente con la cultura dei palestinesi dicono vabbè quello è un fantoccio io adesso mi armo mi difendo da solo non è molto difficile sono 15 anni che va avanti così che non è però tornando alla cina io non sto dicendo che quella sia la soluzione che sia io non credo che dei cinesi sia il caso di fidarsi ci fideremo dei cinesi il giorno in cui avremo la piena consapevolezza che davvero la maggioranza delle città cinesi dell'elite non ha voglia di guerre e di casini esattamente come per il momento una minoranza dell'elite ok sono d'accordissimo sto dicendo che se vogliamo davvero fare i realisti dobbiamo andare a vederli su quel terreno ora i processi diplomatici sono molto lunghi e non è necessario che la federazione di taiwan avvenga domani credo che nemmeno loro se l'aspettano tant'è che è palese che non è che loro domani pensano di invadere è che ti devi staccare da questa posizione in questo momento che è di continuare a mostrare chi ha più forze navali in giro chi occupa più isole chi chi manda più più aerei nello spazio aereo dell'uno dell'altro e se vuoi provare a fare questo devi decidere che giochi con la cina un gioco un po diverso perché perché io continuo a ritenere che il problema drammatico vero della cina non sia tanto quello di prendere taiwan ma di mantenere l'onore interno e la rispettabilità internazionale mentre si mantiene il processo di crescita che è altamente dipendente dagli europei la scelta statunitense in questo momento è ok non ci fidiamo di voi siete brutti e cattivi e siete i nostri avversari potenziali quindi d'ora in poi vi affameremo affameremo per modo di dire ma insomma vi isoleremo tecnologicamente e e su questo noi ci stiamo accodando se ci fosse qua alberto forchielli direbbe è assolutamente giusto perché loro ti rubano tutto io ho letto la visione di alberto è quella la visione di molti la visione dominante in un certo mondo imprenditoriale americano è esattamente quello no specialmente quello quello avanzato questa a mio avviso è la grande domanda da farsi eh europea non è che vittorio parsi e men che meno michele boldrini abbiano la risposta però è quella allora invece macron che va lì e dice le cose strane che ha detto che poi non è capito il senso francamente esatto è quello che non si capisce cosa diavolo ha detto perché appunto per tornare alla tua domanda iniziale che ok una posizione europea ma qual è cioè non 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 si capisce sembrava la line cioè avesse signora verbi sono abbattuta adesso non vorrei essere facciato di essere ma è vero ha parlato tanto non hai toccato eh cioè sì io sono più esplicito di vittorio notoriamente e quindi è un po' a me sembra che ci sia un po' la fatica di capire in Europa che eh noi non 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 questo mio punto di vista perlomeno cioè noi forse non siamo più in un sistema unipolare o meglio non siamo più nelle condizioni della sostenibilità di un sistema unipolare anche dal punto di vista politico militare ma non siamo ancora in un sistema multipolare e continuare a far finta di esserci già è un rischio di di commettere un errore perché appunto ti prefiguri un comportamento ma come se tu dicessi sì ma tanto la banchisa sta ghiacciando ho capito ma se non ghiacci se non è ancora ghiacciata tu cammini come se fosse già ghiacciata cadi dentro cioè voglio dire quindi va bene essere no proiettivi però contemporaneamente devi essere on time perché se sei fuori timing è un errore tanto essere in anticipo quanto essere in ritardo non è che cambia niente e allora mi pare a volte che si si perde la cognizione che è sicuro che non ci sta che non è più sostenibile quel sistema unipolare che c'è stato a partire dalla fine della guerra fredda che e che si è perso energia e capacità di sostentamento già da tempo ma dove stiamo andando a che punto siamo è tutto da dire e come per esempio una fatto come un conflitto vada a interferire con questo è tutto da dimostrare perché l'effetto che prima ovviamente questo conflitto ha prodotto è stato una tendenza semmai verso il bipolarismo c'è una tendenza verso l'allineamento tra i russi e i cinesi ancorché un allineamento innaturale per tanti aspetti se guardiamo soprattutto gli elementi economici per così dire no ma meno se guardiamo gli elementi politici e in qualche misura persino un allineamento euro americano che erano lì ad andare ognuno un po' per conto suo l'accoggenza della questione gli ha un po' spinti ad avvicinarsi anche se non sappiamo in maniera quanto 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 permanente allora a me sono concesso che noi potessimo pensare che la struttura verso cui andiamo è una struttura in cui ci possa essere diciamo così in linea di principio come tendenza di fondo un multipolarismo che significa semplicemente una distribuzione delle capacità meno concentrata su uno o due paesi ma contemporaneamente con possibilità che a fronte di crisi si mantengono allineamenti tra le democrazie e le non democrazie allora questo in termini europei chiederebbe in questa fase di sfruttare l'allineamento con gli Stati Uniti e lavorare nel frattempo per dotarsi delle capacità di poter essere autonomi se torna Trump perché il punto la gran utilità di Trump era che gli europei iniziarono a pensare beh ma che si fa se gli americani ci mollano a che punto stiamo allora se metti insieme i quattro anni di Trump e quello che Putin sta facendo adesso un atteggiamento razionale sarebbe ringraziamo Dio che c'è Biden in questo momento ma muoviamoci per essere in grado di sopravvivere al ritorno di istanze alla De Santis o anche solo appunto la Trump nella permanenza di personaggi come Putin invece non vedo questo cioè vedo una nostalgia per un mondo più più pacifico che io non credo che sia alle viste anche nei confronti della Cina se anche si potrà arrivare a una a un deal di carattere diverso tra qualche anno passerà ancora attraverso nell'immediato il tentativo di prese muscolari di di opportunità i cinesi sono innanzitutto opportunisti eh e se in questo momento avranno l'opportunità di di utilizzare un gap di forza lo faranno nel momento in cui questo gap di forza non ci fosse più penso che sarebbero disposti a ragionare con noi e noi potremmo ragionare con più tranquillità con loro questo è un po' il punto secondo me sarò un vecchio conservatore non lo so con gli anni ma il civil space in paravellum secondo me è fondamentale quindi cioè una volta che sono seduto su una capacità difensiva e proiettiva di sicurezza che mi fa star bene poi sono disposto da primi verso chiunque però mi sembra che l'Europa sia un po' allo sbando sai leggevo recentemente le cose di Graziosi e concludo che Andrea Graziosi che è un aspetto di Russia di Ucraina un aspetto vero insomma è uno che è stato da Russia di Unione Sovietica da sempre e che è fissato con la demografia eh però diciamo nel lungo periodo la demografia la demografia è tanta roba come gli italiani stanno imparando infatti infatti ma ti dico fissato nel senso non negativo c'è proprio questa porta chiave di lettura e a me sembra che appunto nel momento in cui guardiamo un grande periodo al lungo periodo ehm noi non stiamo capendo che l'Europa ha veramente una urgenza di mettersi in una posizione che sia sicura e aperta contemporaneamente ehm nell'arco di vent'anni perché dopo i numeri ci condannano a essere incapaci di sostenere qualunque qualunque scenario che venga davanti a noi e dico sicura e aperta perché attraverso la sicurezza è possibile poi giocare un'apertura eh se non sei sufficientemente confidente sulla tua capacità prevarranno gli atteggiamenti di muri e contro muri nei confronti non del dell'est ma del sud e questo è un casino perché la nostra minaccia esistenziale viene da est e viene non da popolazioni viene da organizzazioni statali e la questione di quello che viene dal sud è una questione della nostra incapacità non è semplice ci vuole risorse ci vuole un sacco tutto quello che vuoi ma di trasformare un problema i flussi migratori in una risorsa in un'opportunità possibile la demografia è vero che la demografia va detto gioca anche contro i cinesi in realtà la demografia oggi dice una cosa sola il mondo sarà molto più africano e molto più latinoamericano fra cinquant'anni di quello che lo è adesso la demografia gioca contro la Russia ma gioca anche contro l'Ucraina gioca contro tutto il di fatto il continente eurasiatico fra un po' giocherà anche contro l'India sta flattening out si arriverà a superare l'India probabilmente arriverà un miliardo e sei un miliardo e sette ma insomma in qualche punto lì poi si fermerà sono d'accordo quello è un altro problema lì sappiamo di che la possibilità che l'italiano medio ci ascolti anche quello di sinistra in realtà quello di sinistra ha una visione dell'immigrazione che è una specie di variante della caritas no o si venite bene tanto poi mi fate il giardino e vi e vi offre un caffè e mi sento buono ed è una francamente non ha passato i droni droni è un attacco di un piccione in realtà non è così grave ma siccome stavo guardando te ho visto quest'ombra nel terrazzo lei ha visto me si è allontanata in due ci siamo spaventati e allora no siamo su questo siamo completamente d'accordo cioè sono su quello sulla questione del vis pacem me ne sono convinto da lungo tempo dopo i miei passati pacifisti da giovane a prendere come funziona la vita il mondo mi ha fatto mi ha fatto rivedere il punto di vista da lungo tempo e certo quello è un punto di partenza ma nemmeno quello con il limite di macron qual è il limite di macron che si è sempre stato un enorme ostacolo una costruzione nell'ambito nato per poi magari estrapolarla di un esercito europeo è l'ossessione francese con appunto noi il nostro esercito ce lo gestiamo noi e guai alla coordinazione lì c'è un problema politico di fiducia insormontabile cioè a un certo punto devi accettare che ci sono soldati italiani comandati a generali tedeschi soldati francesi comandati a generali italiani e spagnoli e così via altrimenti non funziona mi ma che lì c'è proprio non lo so come dire vittorio conosci meglio di me c'è un ostacolo i francesi per dire con spagnoli tedeschi in parte anche con noi ma soprattutto con spagnoli tedeschi hanno dato vita a unità piccole multinazionali in cui sono comandi alternati eccetera però stiamo parlando di piccole cose il punto è la leadership cioè non è tanto il comando delle truppe a livello tattico questo può crescere anche di dimensione ma il punto vero è il comando politico cioè i francesi continuano a vedere l'unione ma con su questo non ci sta innovando mi avviso come una protesi della politica estera di sicurezza francese disposti a una una joint partnership con i tedeschi soprattutto perché fino adesso è stata facile perché i tedeschi dal punto di vista militare non c'erano non c'erano adesso vediamo come andrà avanti ma ma non molto di più è questo il punto secondo me e poi c'è tutta la parte se vuoi anche industriale perché anche lì riuscire a fare un po' di delinchi tra voglio avere una capacità di comando politico e uno strumento militare da poter utilizzare che non significa che tutto deve essere prodotto dentro l'unione anzi alcune cose sì alcune cose no cioè nella nostra parte si è scritto che un'unione europea che abbia capacità militare non possa avere un caccia multiruolo fatto da inglesi giapponesi italiani o non possa avere gli f16 cioè gli f35 scusami da nessuna parte o gli Abrams sono migliori delle Claire o se fossero migliori delle Leopard cioè non è questo un punto cioè sono sono cose che viaggiano sul piani distinti i francesi purtroppo fanno più fatica di altri perché hanno chiaramente hanno una postura globale perché sono una potenza nucleare sono l'unica potenza nucleare rimasta la presenza militare sostanzialmente sono gli unici anche europei con una presenza militare fuori d'Europa sostanziale in particolare è l'unico per il nostro riunione dopo la ferrocchia dell'Inghilterra del Regno Unito quindi questo è un altro problema però poi hanno un'industria militare che è importante hanno una parte industriale che è importante cioè hanno una parte cantieristica che è importante quindi è per alcuni aspetti più complicato per loro riuscire a scendere tutto questo e a non ragionare anche con questa tradizione colbertiana che hanno alle spalle in un tutt'uno in cui lo Stato comunque agisce come come regolatore. poiché alcuno dovrebbe spiegare a Macron che non riesce neanche a regolare le pensioni nel suo paese per portarne a un livello in cui che in Italia o negli altri paesi occidentali è stato già ampiamente superato il ritenuto insufficiente questo capisci bene che quando tu non crei l'opinione sulla opinione pubblica la questione la maggioranza dei francesi è contraria alla riforma pensionistica convinta che comunque no sia brutto andare in pensione a 62 anni vogliamo poi o cosa del genere. 64 volevano passare da 62 a 64 è brutto sicuramente per carità di Dio ma il problema è che se campiamo se la media dell'aspettativa di vita è di altri 25 anni rischiavo di finire fuori controllo e tu sai benissimo che la generazione precedente la nostra che è scampata tanto sono molto contento per loro ma noi abbiamo tante persone che hanno fatto più periodo di pensione pagato che periodo di lavoro ormai. Io ho un padre che l'unica maniera in cui tuttora supera gli anni di lavoro superano gli anni di pensione è solo perché ha lavorato anche da piccolo come dire senza essere in regola gli anni in regola sono inferiori già agli anni che lui ha passato in pensione ma comunque visto i contributi visto il meccanismo basta che praticamente gli anni di pensione arrivino alla metà degli anni di contributi per rendere l'intera cosa. Bisogna ricordarsi che anche nello schema assurdo lo approfitto per ripetere guardate è un calcolo banalissimo anche facendo finta che tra l'altro non è nemmeno vero che i tuoi famosi contributi vengono messi da parte per pagarti la pensione che non funziona così ed è il grande mito. Bisogna ricordarsi che i contributi totali quindi quelli tuoi e quelli del datore di lavoro ma facciamo finta che sono tutti i tuoi sono un terzo del tuo stipendio. E vengono accumulati in una vita in cui all'inizio prendi poco mentre poi la pensione la parametrizi adesso meno del passato ma insomma la parametrizi sempre sugli ultimi anni. Quindi un terzo con un tasso di crescita del paese che non c'è quindi capitalizzato a praticamente niente un terzo paga quindi detto siccome quel poco di capitalizzazione compensa per quel poco di crescita salariale alla fine tu ti sei pagato un numero di anni di pensione pari a un terzo di quelli che hai lavorato. Quindi se hai lavorato 45 anni che accade molto raramente contribuito 45 anni ne hai 15 pagati tutto il resto è gratis anche in questo ragionamento come dire che poi è erroneo perché bisogna semplicemente chiedersi che cosa chi lavora oggi è in grado di togliersi di bocca o di tasca per darla a te quindi quello è il vero ragionamento delle pensioni. Questo ragionamento non viene fatto quindi 45 e 15 certo rende un sistema sostenibile 45 e 30 è molto insostenibile 45 e 45 è l'inferno ma torniamo torniamo alla questione allora sì tutto gira intorno alla questione militare sembra essere dal ragionamento tuo. In parte sì io sono convinto che è il punto di partenza e allora la domanda politica intellettuale è in un'Europa che ha trasformato la quiescenza la passività e la fortuna di essere stata protetta per 70 anni dagli errori del passato in una specie di noi siamo bravi visto come siamo pacifisti. Come fai a convincerli che in realtà nei tre teatri di cui ci stiamo occupando c'è quello a est dell'Europa Ucraina Russia quello cinese nell'allungo periodo e quello medio orientale con Israele in particolare ma anche con Iran Iraq Siria puoi sederti al tavolo e cominciare a ragionare se e solo se c'hai le forze armate adeguate e cioè la capacità di intimidire e di dire no mi dispiace questa sua minaccia io non l'accetto perché io sono capace di tirarle sberloni tanto quanto lei a me anzi un pelo di più per cui la la conta dei denti lei ne avrà persi più di me dandogli ovviamente del lei che così su tutti i contenuti come si fa come si fa solo con un lavoro di comunicazione e di e di argomentazione cioè io non vedo altre possibilità è chiaro cioè poi abbiamo fasi di tamponamento nel senso un po' di diciamo di mettere una pezza in cui leadership esecutivi forti ma non forti nel senso autoritari forti nel senso molto consapevoli molto in grado di durare molto in grado di avere un'idea del futuro e di come vorrebbe che questo futuro fosse possono farlo svolgere un'azione di supplenza rispetto al convincimento delle opinioni pubbliche tutte le volte che viene fatto presente che i sondaggi dicono che l'opinione pubblica contare a questo a quello io ricordo sempre che l'opinione pubblica che neanche in percentuali sconvolgenti all'esistenza dei rettiliani che il 11 settembre è stato un complotto degli Stati Uniti che è al 60% che esiste una lobby mondiale praticamente l'evoluzione della lobby della lobby pluto giudaico massonica è molto complicata non riesce e rettiliana anche rettiliana ma perché qui abbiamo il trascinamento delle culture fasciste delle culture comuniste delle culture cattoliche conservatrici che sono sempre tese a diffidare a vedere che quando non controlli tu le cose allora c'è un complotto perché tu sei talmente portitore un signore che sto leggendo ultimamente un filosofo abbastanza noto anche se un po' di moda devo dire che si chiama Alex Rosenberg che sta qua a Duke e c'era sostiene che in realtà siamo il vero problema è perché credo che non si dice mai che noi siamo in quanto umani costruiti per credere ai complotti costruiti per spiegare ciò che non riusciamo a capire con delle storie in cui c'è qualcuno che decide e fa e che fondamentalmente il primo adesso qualcuno si offenderà non offendetevi io non ho questa azione oggettiva il primo e maggiore complottismo è quello che dice esiste Dio il quale ha deciso tutto spiega tutto e quindi il vero grande vecchio è il padre eterno in ogni differente religione o l'insieme dei padri eterni ma anche quella greca si è tornato indietro nell'ateo di nell'erodoto sì che il destino è comunque alla fine si torna indietro c'è un'origine c'è un grande vecchio che determina tutto tra punto io credo questo non vedo alternativa non vedo alternativa che è un duro lavoro di argomentazione e convincimento in cui poi appunto che è faticoso perché appunto di fronte anche alla guerra in Ucraina tu vedi che c'è un atteggiamento di ancora adesso cioè oggi primo maggio a Torino alla fine della manifestazione del primo maggio hanno bruciato in piazza le bandiere degli Stati Uniti della Nato e poi il corrispondente non l'ha detto e dell'Unione Europea ecco cioè tu spiegami cosa c'entra compro di omaggio cosa c'entra però sventolavano garrivano bandiere della pace questo è un po' è il punto da cui partiamo però si fa col materiale che si ha è uno dei motivi per cui andiamo tanto in giro a cercare di parlare con le persone cioè perché comunque bisogna innanzitutto tenere quel nucleo di persone che continuano a avere un atteggiamento razionale sulle cose è eticamente apprezzabile e poi cercare di allargarlo non vedo sì sì no su questo su questo su questo non ci piove il punto è che occorre eh sviluppare una una un'azione proprio di riflessione di consapevolezza europea che o si parte dal riconoscimento della necessità di avere una forza militare ed economica indipendente che sappia contrapporsi al tavolo del negoziato oppure i velleitarismi non servono ecco su questo eh abbiamo una battaglia intellettuale purtroppo tutta in salita perché perché il nostro paese in particolare è dominato da quello da quello che tu hai 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 suggerito però lasciami fare da questo un passo un salto e poi se vuoi chiudiamo la conversazione alla al quadro più vicino quello ucraino su la questione Israele Medio Oriente abbiamo detto su quella cinese siamo lì in sospeso appunto occorre fidarsi o meno ma anche detto in passi questo implica che c'è un problema tecnologico cioè la potenza militare è assolutamente funzione delle tecnologie di frontiera e l'atteggiamento europeo su questo anche su questo riflette una paura e una chiusura a effetto degli errori passati ieri l'altro giorno mi sono reso conto che li hanno fermati perché perché in Parlamento europeo la storia del copyright questo è un tema che ovviamente mi sta a cuore si sta elaborando in maniera abbastanza consensuale destra e sinistra da cross countries a una legislazione che intende limitare l'intelligenza artificiale lo sviluppo dell'intelligenza artificiale con motivazione di protezione del copyright ora io vorrei far capire a tutti che questo è folle perché non è che se l'Europa proibisce o limita tutto questo gli altri paesi non lo fanno le industrie non lo fanno le aziende non lo fanno lo fanno altrove e più tu rimani escluso tra l'altro molti di questi utilizzi di intelligenza artificiale non sono nella forma Facebook sono in ben altra forma sono tecnologie per uso produttivo non solo militare ma proprio per uso produttivo quindi è una misura in cui tu le rendi impossibili da utilizzare in Europa stai semplicemente bloccando allo sviluppo tecnologico delle tue aziende gli Stati Uniti, i cinesi, i russi stessi, gli africani chi sarà? Lo farà alla faccia della tua legislazione sul copyright chiusa parentesi perché mi sembra la follia italiana su questo mi sembra veramente totale Sì ma poi oltretutto questo è veramente una deformazione della fiducia a critica della cultura diciamo politico-amministrativa dell'Unione in una vulgata dell'economia di mercato perché uno che volesse preoccuparsi di controllare gli effetti delle, diciamo così, possibili deleteri dell'energia, dell'intelligenza artificiale è sicuramente interrogare su quali forme politiche di controllo all'interno del sistema democratico possono essere attuate ma pensai di chiudere la porta utilizzando uno strumento che tipicamente ha a che fare con, diciamo così una visione economicistica dei rapporti che è il copyright che poi è una visione economicistica tu mi insegni che in realtà come posso dire è tutta da mettere va maneggiata con le molle perché il copyright di per sé è una violazione della logica del mercato che però risponde, diciamo così, a una tutela dell'investimento quindi non è che se tu lo metti come prendi il copyright e pensi che quello è le tavole della legge stai facendo del mercatismo ignorando i fondamentali dell'economia di mercato secondo me mi fai dei casino ignorando francamente i fondamentali visto che molti fanno immorale mi hai portato su un terreno che avendo in mano da 30 anni il copyright è semplicemente una maniera fondamentalmente per far profittare quei pochi che controllano i copyright in maniera parassitica per fare l'esempio più brutale ma sostanziale la letteratura scientifica è prodotta da gente come me e come te o meglio come te e come me a chi ci profitta attraverso il copyright sono Elsevier e compagnia i quali prendono gli articoli miei e per concedermi l'onore di pubblicare i miei lavori sulla rivista scientifica che controllano mi chiedono dei release del copyright dopodiché se io voglio far usare l'articolo ai miei studenti costa 25 dollari a copia allora io da sempre violo tranquillamente questa cosa avendo scritto su questo e astutamente Elsevier non ha mai denunciato niente nonostante lui lo cominciano anzi mi ha fatto fare l'editore dei suoi giornali però la grande maggioranza delle persone lo rispetta quindi chiusa appunto la parentesi ma se poi tu ci pensi anche persino tutta la storia dell'open access che nelle scienze dure può avere un senso ma tutta la storia dell'open access in realtà è un modo in cui tu chiudi la concorrenza di tutte le university press o le case degli editori locali che non sono in grado di stare su un mercato open access costruisce una posizione di monopolio di fatto emana due o tre grossi editori che conosciamo tutti dopodiché se da lì ci sarà un'evoluzione in un senso diverso una volta che si sono rimasti in tre decideranno loro tutto e quindi questo se ci pensi è una follia allora a me quello che colpisce che il Parlamento europeo possa fare è prendere uno strumento come il copyright che appunto ha tutta una serie di criticità economico slash politiche importanti e pensare che questo possa sostituire la decisione politica sovrana e invece proprio perché si presenta come tale può essere discusse in maniera molto più ampia non è in materia di avvocati ma in materia di rappresentanti decisori politici però è tipico della tendenza legalistico mercatistica alla Unione Europea che prevale a Bruxelles questo è un grosso problema secondo me io non ho sono conscio immagino che ci siano delle problematiche città nell'intelligenza artificiale sono facili da immaginarsi però penso che uno strumento che si illude di poterlo controllare distruggere una specie di luddismo applicato a questo è follia diciamo al luddismo legislativo è regolatorio con celebrazioni completamente assurde stiamo un po' esulando solo apparentemente stiamo esulando dall'argomento nel senso che questi sono gli indicatori culturali che poi ti impediscono di avere una politica estera una politica globale credibile proprio perché gioisci e ti concentri su forme di difesa dell'esistente di blocco di ciò che avviene fuori di te delle innovazioni che ti arrivano delle sfide che queste ti pongono in nome di una qualche tua forma di superiorità morale che è una specie di malattia che ha preso ormai l'intero non l'intero ma insomma buona parte del panorama politico europeo di fronte alle sconfitte di fronte all'incapacità di agire di fronte al ritardo si reagisce si però noi siamo buoni si però noi facciamo le cose giuste si però noi abbiamo appunto difeso il copyright la pace e queste cose ed è un po' legato alla battaglia da fare prima hai menzionato Ferrara che dice siete moralisti forse hai in mente più che altro quelli più che persone come te o me qui il problema non è essere moralisti il problema è appunto accettare che se vuoi preservare i principi di fondo devi anche riuscire a capire che quei principi di fondo li devi difendere adattandoti e competendo sul terreno globale e non bloccando ad ogni momento la sfida no mi pare proprio questo il problema culturale di fondo un arroccarsi di fronte dietro a una difesa verbale di grandi principi di status no un po' come siamo gli eredi gli eredi della grande cultura rinascimentale quando poi la grande cultura non la produci più e ti rifiuti di produrla e comunque la grande cultura rinascimentale ha avuto l'effetto che ha avuto perché non c'è la copyright esattamente perché no nel caso del copyright è assolutamente vero io direi di chiuderla qui perché se viene troppo lunga ci criticano no perché se viene troppo lunga giustamente ci criticano no 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 ci fermiamo ci fermiamo anche perché siamo partiti dalla Cina e siamo arrivati a discutere il copyright che si tiene che si tiene perché la battaglia culturale è comprensiva senti ti ringrazio vediamo come prosegue grazie a te e fra qualche settimana rifacciamo il punto se vuoi pensare anzi approfitto anche per ringraziare tutti i sostenitori di Liberi Oltre perché in questi mesi in cui sono andato in giro e sto ancora andando in giro a parlare del libro poi in realtà a parlare a partire dal libro a fare questa benedetta battaglia culturale devo dire che molto hanno fatto a livello periferico i nostri amici di Liberi Oltre questo quindi voglio ringraziarli pubblicamente perché sono stati grandi artefici sia organizzando cose sia partecipando a cose organizzate da altri e questo ti dà speranza perché poi appunto noi scriviamo lo riflettiamo e siamo alla fine scienziati sociali per cui lo facciamo pensando comunque avendo nel retrocervello non semplicemente la descrizione del reale ma anche la sua ipotetica possibilità di indirizzarlo verso scenari preferibili e non detestabili per cui insomma devo dire grazie a tutte queste persone che si sbattono fanno un sacco di cose devo dire ho scoperto una realtà che non conoscevo e la causa è tua onestamente la colpa è tua e ricorre grossi modunano dalla prima volta che abbiamo iniziato a chiacchierare intorno eh sì eh sì eh sì ci siamo conosciuti forse un pelino di più forse era aprile ma adesso oggi è primo maggio esatto oggi è il primo maggio lì da voi esatto qui anche qua il primo maggio ma qua il primo maggio è un lunedì qualunque questa non ha affatto Labour Day viene in settembre Vittorio grazie grazie a te a nome degli associati Liberi Oltre per i ringraziamenti e ce ne saranno delle altre ciao ok ciao 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 ciao